Benvenuti o ben ritrovati su questo canale. Come va? Mamma mia, qua c'è un tempo da lupi. Proprio piove in una maniera devastante e, giusto appunto, voglio esporvi una lamentena mia, personale, perché sono tornato a casa con l'ombrello, da scuola, e ho scoperto una volta arrivato a casa che avevo le braccia completamente bagnate. Proprio la giacca era da buttare via. No, beh, era da asciugare però in maniera proprio forte, perché era completamente fradicia. Poi mi sono ricordato che quell'ombrello non è tanto grande, però ci stavo sotto fino a pochi anni fa. Poi adesso, da quando faccio palestra, che sono 25 kg in più, sono anche più largo, e non mi rendo conto che quell'ombrello lì mi ha completamente bagnato. Quindi si sono salvati i capelli, che fanno comunque schifo, perché con questo tempo la situazione è questa. Questo è quello che passa al convento, come si suol dire. E è proprio una frase che sta, come dire, calza a pennello col video di oggi. Capirete perché? Perché oggi in questo video voglio parlarvi della gita più brutta che io abbia mai fatto a scuola. Ma come studente, come insegnante, al momento non ne ho, perché ne ho fatte anche molto poche. Per adesso mi sono piaciute tutte quelle poche che ho fatto, perché purtroppo ho iniziato a insegnare quando c'era il periodo Covid, quindi non abbiamo fatto gite. Per i primi due anni in cui ho insegnato non ho mai fatto gite, ma neanche in giornata, purtroppo. Quindi ne ho fatta una l'anno scorso, che mi è piaciuta molto, nulla da dire. E quest'anno neanche. Non ne ho fatte. Mi ero proposto, ma sono arrivato un po' tardi e erano già stati presi i posti per andare in gita. Ero dentro come riserva, però nessuno si è ammalato, purtroppo. No, cioè, vabbè, sono contento per chi non si è ammalato, ma un po' meno per me che non ci sono andato. Fatto sta che oggi vi racconto la gita più brutta che ho fatto da studente. E qui, però, ragazzi, intanto ringrazio quello che mi ha suggerito questo argomento. Era un commento del video della scorsa settimana. Il video si chiamava Le notte più divertenti che ho dato a scuola o qualcosa del genere. E ringrazio questa persona che mi ha dato questa idea che, in effetti, è interessante. Perché la storia è abbastanza buffa, ma l'ho dovuta pensare. Perché all'inizio ho detto, qual è stata la gita più brutta che ho fatto? Ho voluto prendere la prima che mi è capitata in mente. La prima. Ed è stata, in effetti, facendo un rapido resoconto, quella che mi è piaciuta meno, ma decisamente meno rispetto alle altre. Capirete adesso perché. Perché ci sono cose, veramente, che mi hanno turbato. Quindi, prima cosa, per raccontarvi questa gita dobbiamo andare a... Per raccontarvi questa gita, non devo iniziare a parlare veloce, sennò sembro la Marcuzzi che inizia a parlare rapidamente e non si capisce più niente di quello che dico. Per iniziare questa storia dobbiamo andare indietro nel tempo. Perché questa gita l'ho fatta a fine scuola elementare. Voglio un attimo precisare una cosa, perché questa gita l'ho fatta nel periodo scolastico, quindi quando ero ancora studente. Però in realtà l'ho fatta a inizio giugno, mentre ero al Grest, cioè i famosi gruppi estivi. Erano gruppi parrocchiali in cui andavo ogni mattina e una volta a settimana facevamo una gita in un posto diverso. Quindi questa gita non è propriamente della scuola elementare, l'ho fatta durante questo gruppo estivo. Non l'ho specificato nel video un po' perché mi ero anche dimenticato, quindi scusatemi, ma visto che voglio essere preciso e non voglio incolpare la scuola di cose che non sono successe, questa cosa è successa durante i gruppi estivi. Adesso vi racconto cos'è successo. Insomma, me la ricordo bene perché non è stata bella. che alla fine l'obiettivo era vedere una infiorata in una abbazia. Quindi capite che le abbazie cosa sono? Quei luoghi sacri, e ci sono a volte queste iniziative proposte dai monaci, dai frati, dipende un po' chi c'è, no? E quindi in questo caso hanno organizzato una infiorata, che era una grande distesa di fiori all'interno dell'abbazia, che potevi visitare, guardare, annusare, ed era bella perché formavano anche disegni particolari, era un lungo tappeto di fiori, che in effetti di per sé era molto bello. Però non è stato questo il problema della gita, che in effetti è stata l'unica cosa carina. Ma iniziamo prima col viaggio. E andiamo con ordine. Perché durante il viaggio abbiamo iniziato a cantare, perché avevamo come abitudine di portare alcune canzoni, ma canzoni di gruppo, che non so se si fanno ancora, perché non ho fatto gite con scuole elementari, quindi non so cosa cantino adesso, e se lo fanno. Ma noi facevamo, ad esempio, Stendi i panni, e le dicevamo prima con la I, con la O, con la A, con la U, stondo ponno, stondo ponno, quelle cose lì. Chi non le sa è difficile, però andate a cercare su YouTube, scommetto che ci sono queste canzoni. Poi abbiamo fatto anche la macchina del capo, ma anche alcune un po' più sconosciute, tipo ce n'era una che faceva Non si va in cielo con... E poi dicevi il nome di uno dei tuoi amici, di quelli che c'erano sul pullman, ad esempio, ad esempio. Non si va in cielo con Marco. E poi dovevi fare la rima. Perché in cielo non c'è... E dovevi fare la rima con Marco. Non c'è un parco. E poi continuavi. Non si va in cielo con Marco. Perché in cielo non c'è un parco. Oh, ia, oh. I, ah, oh. Oh, ia, oh. I, ah, oh. Queste sono delle hit, ragazzi. Queste sono delle hit, che in confronto l'Eurofestival è la sagra parrocchiale. Abbiamo fatto queste hit, cioè queste canzoni, e a un certo punto però ci siamo dovuti fermare. Perché? Perché è successa una cosa che succedeva quasi ogni anno, ad ogni gita, specialmente le gite parrocchiali, perché ne facevo anche lì, che c'era un nostro compagno che stava male. Di un'altra classe, tra l'altro, non della mia. Quindi siamo dovuti fermare e abbiamo dovuto fare l'ultimo pezzo di strada andando a passo d'uomo col bus che seguiva il ragazzo che stava camminando davanti al bus con un insegnante. Quindi l'ultimo pezzo, con un po' di tornanti, un po' di curve, ce lo siamo fatti a 2,5 km all'ora. Così, tardando in maniera estrema il nostro arrivo, i fratissi saranno completamente addormentati anche perché si alzavano le 3 del mattino, quindi siamo arrivati con un po' di ritardo, stremati, perché già il viaggio non era velocissimo. Poi lo allunghi anche in questo modo, capirete che diventa un pochino pesante. Siamo arrivati che eravamo tutti mezzo addormentati. Il che non era molto bello perché iniziavamo con poco entusiasmo. Devo dire però che l'entusiasmo si è riacceso vedendo l'infiorata, perché era veramente bella. Un tappeto lunghissimo di fiori che ha soddisfatto le nostre aspettative. Non è che ci aspettavamo chissà cosa, ma era bello. E c'erano anche un po' di sfizi, un po' di prelibatezze, diciamo, da poter comprare. C'erano delle tavolette di cioccolato fatte dai monaci. Altri prodotti, specialmente di cioccolato, io ne avevo presi, mi sembra che avevo preso una tavoletta di cioccolato al pistacchio. È stata la prima volta che l'ho assaggiato, mi era piaciuto da matti. Infatti il pistacchio è ancora adesso il mio gusto preferito del gelato e anche del cioccolato, perché esiste anche il cioccolato al pistacchio. e quindi questa era stata una parte bella della gita. Il problema è che questa parte durava fino a verso mezzogiorno, verso l'ora di pranzo. Però la gita in teoria finiva di sera. Cosa abbiamo fatto nelle restanti sei ore e mezzo che sono intercorse tra questa distesa di fiori e la nostra partenza per tornare a casa? Niente. Cioè, che potrebbe anche essere divertente per alcuni di voi sentire la parola niente legata alla gita. Ho qualcosa nell'occhio, scusatemi. Girano dei pelucchi con queste allergie e c'ho qualcosa nell'occhio. Comunque ce la facciamo. Devo dire, abbiamo fatto niente per queste sei ore, ma è stato massacrante. Perché? Allora, prima cosa eravamo al sole, non si poteva entrare dentro. Ci hanno voluto tenere in giardino, nel parco, perché davanti a questa abbazia c'era un grosso parco. Stavamo lì in teoria a giocare. Va bene, ok, fatto sta che c'erano 48 gradi, si moriva di caldo, c'era il sole, non c'era neanche un grammo d'ombra perché non c'erano alberi. Non c'erano! Poi ho visto foto recenti di questa abbazia e ci sono degli alberi adesso. Grazie, li avete piantati con un leggero ritardo. Però comunque ai tempi non c'erano. C'erano dei cespuglietti nei quali magari potevi a stento giocare a nascondino, ma se ti mettevi qua vedevi nel raggio di 8 chilometri e mezzo una distesa verde infinita, quindi comunque le persone trovavi subito. Poi c'era una fontana, mi ricordo, e c'era così caldo che ho visto bambini fare proprio il bagno nella fontana, buttarsi nella fontana, che peraltro sarà stata anche acqua riciclata perché le fontane non è che fanno uscire acqua pura, depurata come nei rubinetti, no? Quindi vabbè, io non l'ho voluto fare, infatti ha ragione veduta. Oltre a questo c'erano anche molte api e molti insetti ma di quelli tipo vespe anche perché la fontana aveva attorno a sé anche delle pozzanghe. Poi hanno anche giocato con l'acqua attirando ancora più vespe. Quindi a me le api piacciono molto, piacevano anche all'epoca, però le vespe mi hanno sempre spaventato perché ho visto gente che è stata punta dalle vespe e non è per niente bello. Le api pungono molto meno perché anch'io qui a casa mia ho diverse api giù da basso, ma io ci sto vicino, mi siedo lì, loro stanno tranquillissime, proprio mi piacciono molto le api. Le vespe no, e lì ce n'erano tante. Quindi si sommava caldo, sole, nessun luogo ombroso, nessuno, vespe, api, e il fatto che non potevi entrare al chiuso perché appena provavi, appena qualcuno provava a entrare al chiuso per sedersi, c'erano insegnanti, educatori o così che dicevano no, 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 questo è lo spazio nostro, voi state fuori, divertitevi fuori, e non potevamo rientrare. Quindi dovevi stare per forza sotto il sole per tutto il pomeriggio. e voi direte va bene, ma ci aggiunge anche il fatto che lì ho scoperto diciamo le mie allergie praticamente perché non so se le ho scoperte proprio lì ma è stato il primo evento che ricordo legato alle allergie perché io sono allergico ai pollini e alle graminacee in genere queste cose qui e lì insomma in quel periodo lì a quanto pare c'erano queste cose qua quindi ho iniziato a stermutire a tossire proprio mi lacrimavano anche gli occhi infatti a un certo punto ho usato come scusa che in effetti era vero l'allergia per poter finalmente entrare al chiuso e sono stato lì all'ombra al chiuso per le restanti ore del pomeriggio però a questo punto c'era anche la noia e ero anche contento di starmene un po' da solo perché all'epoca cioè avevo un gruppo di amici a scuola però avevo anche dei momenti in cui volevo un po' stare in pace quindi dopo dopo aver fatto quattro ore dalla mattina a girare a chiacchierare a giocare volevo anche un attimo ritirarmi nei miei appartamenti e sono andato lì mi sono seduto c'era anche una chitarra alcuni hanno suonato la chitarra ma alcuni di quelli adulti educatori o insegnanti l'hanno un po' suonata ho ascoltato poi ero così annoiato che sono riuscito ad unirmi ad un gruppo di due o tre educatori o altro e siamo andati nel bar che c'era lì a fianco e loro si sono bevuti un caffè io niente io mi sa che ho preso un lecca lecca un ciupa ciups qualcosa del genere mi ricordo l'orario sapete perché? perché ricordo benissimo che quando siamo entrati nel bar c'era in televisione una puntata di Beautiful che era sempre veniva sempre trasmessa mi sembra tra l'una e mezzo e le due e mezzo del pomeriggio quindi era proprio subito dopo pranzo quindi capite voi che avevo già la noia alle due del pomeriggio pensate il resto della giornata quindi non è stata una bella gita perché alla fine l'unica parte bella sono stati quei minuti nei quali abbiamo visto l'infiorata perché non mi sembra che l'abbiamo vista neanche per tanto tempo ci siamo passati l'abbiamo visitata un po' poi siamo andati nei loro chioschi che vendevano queste cose va bene però la maggior parte della giornata io me la ricordo con sofferenza perché un caldo bestiale gli insetti la fontana la gente che si bagnava di acqua sporca poi la noia le allergie siamo tornati a casa e qualcuno è stato male anche al ritorno e allora ci siamo dovuti fermare anche al ritorno si mi ha avuto in mente questa cosa adesso mentre vi parlavo quindi vedete si sono sommate tante cose adesso ripensando ci fa anche ridere cioè la ripensi anche con il sorriso però mi ricordo che quando sono tornato a casa a parte che ho preso subito un antistaminico perché avevo un'allergia pazzesca poi ho detto mai più mai più le gite mai più invece poi ci sono tornato ma non lì non lì poi abbiamo fatto gite più belle ma più avanti non mi ricordo alle medie sì ho fatto qualche gite anche lì ok quelle erano già un pochino meglio spero del resto che vi sia piaciuta questa storia questo racconto e non so se voi ne abbiate passate di peggiori in fatto di gite nel caso ditemelo qua sotto perché sono molto curioso di sentire i racconti delle gite e queste cose qui detto questo se avete idee per altri video in futuro scrivetemelo qua sotto perché sapete che le leggo tutte anche idee che non siano racconti personali anche idee che spaziano magari anche in altri argomenti o cose varie ditemelo qua sotto e se volete mettete mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video la prossima settimana e ci sono tra l'altro qua in questo canale vari shorts che escono ogni settimana praticamente che potete gustarvi nel momento che ritenete più opportuno ciao e al prossimo video ciao